L'industria manifatturiera, il settore che negli anni ha permesso all'Italia di rialzarsi anche dalle crisi più profonde. Al Made in Italy è stato dedicato l'incontro di oggi dell'Unione Industriale di Torino e Confindustria, una giornata in cui l'Italia si è messa a confronto con Brasile, Germania e Stati Uniti. Ad aprire lavori in mattinata Gianfranco Carbonato, presidente degli industriali torinesi. Chiediamo attenzione per l'industria e azioni politiche rapide e incisive che ci mettano nelle condizioni di fare impresa con successo sui mercati internazionali, ha detto alla platea degli imprenditori. A ruota il governatore del Piemonte Roberto Cota, che ha mandato un messaggio più che esplicito all'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne, seduto in prima fila. Torino nel mondo è sempre stata conosciuta come una città dove si producevano, si producono e si produrranno automobili. Quest'immagine deve restare. Sulla stessa linea l'intervento di Piero Fassino, sindaco di Torino, che nel suo saluto ha ribadito «Vogliamo continuare ad essere una città manifatturiera, a partire dalla forza dell'industria automobilistica». La risposta della di Fiat non si è lasciata attendere. Nel pomeriggio Marchionne ha ribadito alla platea l'impegno di Fiat per il territorio. «Abbiamo sempre fatto tutto ciò che era in nostro potere per limitare le conseguenze sulle persone», ha spiegato. «Nemmeno nella crisi del 2008 abbiamo denunciato eccedenze strutturali e pur di evitare licenziamenti, ha affermato, abbiamo fatto ricorso a 30 milioni di ore di cassa integrazione nel 2009. Nei casi più difficili ci siamo impegnati a ricollocare le persone». Parlando del piano Fabbrica Italia è impossibile, ha detto, precisare dettagli di investimento sito per sito. La certezza invece riguarda la posizione di Fiat sul mercato. Con Chrysler quest'anno insieme venderemo 4,2 milioni di vetture, diventando il quinto produttore al mondo, ha ribadito. «La perdita è superiore a 2 milioni di euro al giorno nel 2004, weekend inclusi. Siamo passati a circa 10 milioni di euro di utili al giorno nel 2008, weekend inclusi. L'abbiamo voluto fare da soli, abbiamo varato una severa azione di contenimento di costi, abbiamo ripensato i nostri piani alla luce di una situazione d'emergenza. E siamo riusciti anche in questo periodo a stare passo con i nostri migliori concorrenti, tanto che nel 2009 abbiamo registrato in percentuale il margine della gestione ordinaria più alto del settore». Infine una considerazione sull'uscita di Fiat da Confindustria. «E' una scelta che abbiamo valutato con grande serietà e che non ha nulla a che vedere con ragioni politiche», ha ricordato Marchionne. A conferma delle sue parole un abbraccio con la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Un gesto che rompe un silenzio fatto di polemiche.